Sono Francesco Iannice, mi occupo di gestione dell'innovazione e dei progetti, quindi anche di project management. Lo faccio come partner di una società di consulenza che si chiama MPS Consulting e in qualità di docente dell'Università di Bologna, Scuola di Ingegneria e Architettura. Sono qui stamane in Skillab a Torino per avviare un corso interessantissimo di lean project management, quindi di applicazione di strumenti agili e snelli alla gestione dei progetti, in particolar modo progetti di innovazione e sviluppo prodotto. Abbiamo appena terminato la mattinata, l'audience mi sembra molto positiva, ci sono dieci ragazzi in aula provenienti da aziende del territorio, i settori sono i più svariati e quindi anche le esigenze, le caratteristiche e le loro peculiarità sono le più diverse, ma ci stiamo ritrovando nello scambio di esperienze reciproche, di conoscenze e stiamo provando a mettere a fattore comune le nostre conoscenze e le esperienze, in un percorso che ovviamente non finisce qui ma ha una sua durata, ci rivedremo ancora e reputo molto interessante il confronto, il confronto è sempre ricchente, è sempre interessante, è sempre stimolante sia per i ragazzi, mi auguro, ma anche per me che sono da quest'altra parte, la scrivania, significa ogni giorno imparare dall'esperienza altrui qualcosina di nuovo.